Innovation Day 2019, un evento sul cambiamento organizzativo. Buon compleanno Luca Parmitano! Bentornati all'appuntamento con Video News. Innovazione, cambiamento, necessità di gestire efficacemente gli impegni operativi sempre più sfidanti attraverso l'innovazione dei processi lavorativi, delle competenze e delle capacità diventa essenziale per migliorare le performance organizzative. Ed è per questo che l'Aeronautica Militare ha intrapreso negli anni un articolato percorso di cambiamento proponendosi come guida in questo ambito per le altre Forze Armate e realtà della pubblica amministrazione. Proprio di cambiamento di metodologie innovative correlate si è parlato in un convegno avvenuto ieri a Roma dal titolo Innovation Day 2019. Innovation Day è stata l'occasione per presentare i risultati del programma di innovazione organizzativa sperimentato internamente ed esternamente alla Forza Armata in un percorso narrato proprio nel più innovativo e complesso dei contesti, quello spaziale. Questo incontro idealmente si raccorda con il Simposio Aeronautica Militare 4.0, innovazione a 360 gradi dello scorso anno e nel quale era stato lanciato il programma. Presenti all'evento, oltre al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso e al Sottosegretario di Stato alla Difesa, Onorevole Angelo Tofalo, anche rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, della Scuola di Direzione Aziendale Bocconi, del Mondo Universitario e di Accredia, Ente Nazionale di Accreditamento, oltre a rappresentanti della Forza Armata. Durante l'Innovation Day si è parlato di evoluzione delle strategie di cambiamento nelle organizzazioni, strategie che devono tener conto di vari aspetti portati all'attenzione dei presenti dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Diciamo che l'Aeronautica Militare è quella più vicina alla tecnologia, alla modernità e all'innovazione. Se l'innovazione, come abbiamo visto oggi, c'è nei mezzi tecnologici, nei mezzi sofisticati che utilizziamo, altrettanto deve esserci nella struttura organizzativa, nella gestione della nostra struttura e delle nostre procedure. Abbiamo deciso di seguire un cammino di apprendimento graduale utilizzando quelle che sono le competenze più importanti del mondo accademico e del mondo industriale. Io uso sempre due termini per questo processo, umiltà e determinazione. Umiltà vuol dire imparare da chi è più bravo di noi, affacciarci come sempre con umiltà alle cose nuove dove dobbiamo imparare qualche cosa. Determinazione che è l'altra componente fondamentale che ci consente nel momento in cui siamo convinti e consapevoli che è un'innovazione possibile, perseguirla con determinazione. Quindi convincere il personale, coinvolgere il nostro personale e muoverci insieme verso quello che ci può offrire una metodologia nuova. Lo stiamo facendo. In particolare la 46esima Brigata Aerea è stato uno dei reparti della Forza Armata che ha applicato la metodologia del feedback a 360 gradi, che si è rivelato molto utile nei processi decisionali. Il feedback a 360 è stato uno strumento davvero innovativo che ci ha sorpreso per i risultati che ha portato in 46esima Brigata Aerea ma è servito a darci la consapevolezza di quello che presumevamo fino ad allora, cioè che gli approcci, le procedure che stavamo avendo al lavoro quotidiano in realtà non erano più adeguati per stare al passo con l'innovazione tecnologica, di conseguenza con l'innovazione del pensiero, con l'innovazione dell'agire quotidiano. Serviva un'innovazione metodologica e questa consapevolezza ci è venuta proprio dal feedback a 360. Tutti i processi di innovazione comportano la gestione di nuove sfide, come ci ha spiegato il comandante del 61esimo stormo. L'innovazione è un fenomeno emergente se si vuole un'innovazione efficace e persistente e allora la sfida è quella di creare un clima organizzativo, di creare un'organizzazione dove questo fenomeno può emergere spontaneamente. Significa lavorare tanto sulle persone, sul team, sull'organizzazione, sugli individui. Un vero e proprio modello di innovazione organizzativa che l'Aeronautica Militare ha ideato e realizzato e che ha generato una vera e propria capacità organizzativa. L'evento di oggi è la prova inconfutabile di quanto l'Aeronautica Militare e quindi l'Amministrazione della Difesa sia avanti anche rispetto ad altre sulle strategie innovative di cambiamento e i processi di dimenaggiamento all'interno del proprio personale, della formazione delle proprie risorse. Mi fa piacere che l'Aeronautica sia stata la prima all'interno delle Forze Armate. Apprendo con grandi piacere stimoleremo sicuramente anche le altre a fare altrettanto e credo che questo sia un modello poi da disseminare all'interno di altri dicasteri. Un elemento fondamentale di questo nuovo modello innovativo è anche il suo riconoscimento presso l'organismo di certificazione di Accredia, unico organismo deputato a rilasciare questo tipo di accreditamento. Come ha detto ai nostri microfoni il direttore generale di Accredia. È molto significativo che si sia fatta questa scelta di farsi verificare da un soggetto esterno, autorevole di terza parte, in modo tale da essere sicuri di avere garanzie di indipendenza di imparzialità, di competenza per il rilascio di queste certificazioni. Sottolineo che si apriranno norme nazionali, un in modo particolare quella sul project manager mi pare molto significativa per sviluppare le competenze dei quadri del corpo dell'Aeronautica Militare. Tanti auguri di buon compleanno a Luca Parmitano che oggi compie 43 anni. Il colonnello Luca Parmitano, pilota dell'Aeronautica Militare e astronauta dell'ESA, da poco partito per la missione Bayond, sarà il primo astronauta italiano ad assumere l'importante ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Videonews è terminato, vi diamo appuntamento al prossimo venerdì e vi auguriamo un buon weekend. a presto! 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 Grazie a tutti.